Lavori di lumaca lungo via Salice, in attesa che vengano rimossi i pari della pubblica illuminazione, non è ancora chiara la data della fine dei lavori e della messa in sicurezza dei marciapiedi lungo la strada extraurbana con l'interramento della linea aerea. Lavori che stanno interessando il tratto da circa tre anni e che non giungono a conclusione nonostante una diffida al gestore della rete e la presenza in zona del presidente della provincia michelestrianese voluta lo scorso anno dal gruppo consigliare Progettiamo per Angri. I consiglieri comunali in quella occasione illustrarono tutte le criticità e i disagi vissuti dalla comunità locale a causa dell'annoso quantiere. Sulla questione fa di nuovo sentire la sua voce il consigliere comunale di Progettiamo, Domenico Dauria. Sono trascorsi circa tre anni da quando la regione Campania ha finanziato la messa in sicurezza di via Salice attraverso la realizzazione di un marciapiede proprio perché sono stati aboliti i passaggi a livello e quindi la viabilità doveva essere messa in sicurezza, la viabilità alternativa ai passaggi a livello. Dopo tre anni l'opera, il cantiere è sospeso e fermo da diversi mesi perché in sostanza a seguito della mia interrogazione sono stato informato che i gestori dei sottoservizi e in particolare i gestori dell'impianto di elettrificazione della strada e delle abitazioni confinanti sta svolgendo dei lavori in interramento di questa linea aerea per consentire l'eliminazione dei pali laddove deve essere realizzato in marciapiede. Ma questo lavoro è fermo da diversi mesi per cui ho chiesto i motivi per cui non si facesse niente o se nel frattempo fosse stata diffidata la società a fare i lavori di che trattasi. Quindi durante quel Consiglio Comunale sono stato informato che c'è stata questa diffida quindi ci auguriamo che i lavori riprendano nel più breve tempo possibile soprattutto perché c'è il rischio che trattandosi di un finanziamento comunitario con fondi comunitari ci possa essere la revoca del finanziamento stesso.